E oggi è mercoledì 6 giugno e noi siamo qui in Drive Time, siamo pronti a intrattenervi per una mezz'oretta circa, i cittadini, Fanzo, Cesareo e Elio, siamo su Rai Radio 2, siamo fisicamente negli studi della Rai di Corso Sempione, quelli belli. Sì, sentite ma se la gente, gli amici che ci ascoltano sono in Drive Time perché sono in the car, noi siamo in the studio, in the studio, siamo on air in the studio, no, volevo entrare in una dimensione un po' moderna perché parlare in italiano sappiamo è un po' deludente. Ma cos'è successo questo mercoledì 6 giugno del 1944? Non ne ho la miglia idea. 6 giugno, 6-6, quindi è un giorno in cui si è doppiamente. 6-6. 6-6. E se fosse il 6-6 del, non so, 666 potrebbe essere un giorno, diciamo così, indemoniato. Indemoniato. Però comunque il 6-6 un po' indemoniato è da quello che sta per dirci Cesareo. Beh, certo, perché nel 1944 avviene lo sbarco in Normandia, la più grande opera, 1944, 6 giugno. Il 6 giugno del 1944 è il D-Day. È il D-Day. Ah, fatta. È il D-Day che diventa il giorno D. È il giorno D, infatti. Esatto, che diventa D-Day da quel giorno perché normalmente quel D era un... Il D-D-Festa. Esatto, un D-D-Festa o un D-Speciale. Anzi, è il D-D, quindi. È il D-D. È il D-D. È il D-D. È il D-D. Cosa D? D che c'è questo sbarco in Normandia e una delle caratteristiche simpatiche, noi ci lamentiamo delle previsioni meteo quando dobbiamo andare in vacanza, che non ci andiamo perché prevedono brutto e invece poi c'è il sole che spacca le pietre, anche qui succede una cosa simile, cioè che i britannici sbagliano, sbagliano. I meteorologi? Sì, esatto. Sì, sì, ma le previsioni del meteo britannico, lo sappiamo, sono sempre state loro. Era una settimana di brutto tempo e soprattutto nel 5-6 giugno loro avrebbero previsto però un miglioramento che invece non fu così. Non c'è stato. Infatti anche nei film famosi vedi sempre un casino, onde altissime, difficoltà. Insomma, invece i tedeschi, che erano precisi, invece prevedono che c'è brutto tempo il 5 e il 6, soprattutto il 6, e infatti tengono un sacco di armate lontane e quindi per assurdo poi gli è andata bene. Gli è andata bene. Hanno perso lo stesso. Hanno perso lo stesso. Quindi questo ci insegna che chi azzecca le previsioni meteo poi alla fine perde. Questo è il grande insegnamento che ci dà il giorno 6 giugno. E' eccitante, eccitante, Fiorella Manoia con Normandia, Normandia, di cui ricordiamo una strofa tagliata dalla censura che era Normandia, Normandia per piccina che tu sia, io faccio uno sbarco in Normandia. Bravo. A questo era il pezzo originale. Sì, perché è piccina a Normandia, però se ci arrivi con una quantità di truppe, di mezzi, dimmi... Ma continuiamo con l'informazione di servizio pubblico sul D-Day. In italiano il D-D. Il D-D. Solamente una cosa che magari non sapevate, che tra i molti italiani che combatterono a fianco di tedeschi contro gli alleati ci fu uno poi molto famoso, tale Walter Annichiarico. E chi è? Ah, io ho un'idea di chi sia. Il padre di Silvia Annichiarico? Tipo Walter Chiari. Ah, Walter Chiari! No, fantastico. Ah, cioè, Walter Chiari è il nome d'arte di Walter Annichiarico. Annichiarico, lo sapete, lo apprendo adesso, cari amici. E tutto questo grazie ai cittadini, ormai una delle pochissime trasmissioni radio di servizio pubblico vero. Ti dico solo una cosa, uno che ho conosciuto, ma non è nel mondo dello spettacolo, che si chiama Walter Scuri, il suo nome vero era Walter... Anniscurico. 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 Sì, perché quando ti chiami Annichiarico, Anniscurico, tendi a modificare il cognome d'arte. Ma io so che il 6 giugno è accaduta un'altra cosa, molto importante, molto più importante. Ma forse per la nostra gioventù, perché nel 1984, in Unione Sovietica, viene distribuita la prima versione di Tetris. Ok, Tetris. E forse qualcuno di noi... Tetris è stato inventato in Russia. Voglio fare questo. La musichetta di Tetris che ossessionava il giocatore. Che noi abbiamo inserito nel nostro primo disco. Eravamo schiavi del Tetris. Vogliamo anzi dire, amici che siete in Drive Time e che ci state ascoltando, che Tetris è stato il motivo di massimo rallentamento della produttività di Elio Lestorietese. Tetris montato sul vecchio computer Macintoshok Plus, quello che si vede nei fumetti di Martin Mister. Martin Mister ha il Mac Plus, quello alto, più a torrettina, piccolino. E praticamente, mentre qualcuno stava cercando di registrare le sue parti, la chitarra, le basse così, in sottofondo, durante il brano, si sentiva... E spegni sto Tetris! E chi era? Tutti, lui è molto, però. Lui era schiavo, schiavo. Ma tu eri stato in una comunità di recupero percorsici di Tetris. Russa! A Pietrogrado! La cosa più interessante del Tetris per me è che in russo si scrive Tempuk. Ah, non lo so più. Tempuk è molto interessante, che è la sincrasi di Membroafurdino, cioè tetramino e tennis. E mechuk che è tennis. Tennis, fantastico. Perché è un tennis fatto di tetramini. I tetramini, i tetramini sono quelle forme di cinque quadri. Ah, sono quelle di tetramini. I tetramini, tetramini, mi si sta... Tetramini, ma vedo che c'è... Vai con la musica! Tetramino! So, hope for the future, up to the sky... Hope for the future! Ah, wow, watch a gala, wow, wow, wow. Speranza per il futuro, che è quella che noi dei cittadini diamo a tutti quelli che sono in auto, in drive time. Esatto. Ma è quello che sperava anche chi si è inventato il Tetris. Il Tetris, poverino. E parliamo di Alexei Leonidovich Pazitnov, che, come dite, ha fatto un sacco di soldi con Tetris. Sì, anche perché leggo che il Tetris ha fatturato cifre iperboliche, 500 milioni di dollari in pochi anni. Esatto. Quanto ha incassato l'ingegnere Alexei Leonidovich Pazitnov? Dunque, adesso ti faccio il calcolo in rubli, esattamente. Te lo faccio io, zero! Vai con l'interruzione! Siamo ritornati, i cittadini, su Rai Radio 2, dagli studi di Corso Sempione della Rai, nella città di Milano. Oggi è mercoledì 6 giugno, stiamo parlando dei 6 giugni di tutta la storia dell'umanità, e abbiamo parlato del Tetris. Del Tetris, che è stato poi fratello, anzi, diciamo, progenitore di tanti bei videogiochi. Io ricordo, per esempio, che al mare giocavo in una di quelle macchinette, mangia soldi, a Space Invaders. Mamma mia! Che era quello con i robottini che facevano trum, 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 e avanzavano. Avevo speso così tanti soldi, ve la faccio breve, che una volta, mentre stavo giocando, si sono affiancati due o tre ragazzini che volevano giocare, di Recco, Liguria, e dopo un quarto d'ora della mia partita, uno ha detto, Belena, andiamo, questo qui è forte. Perché arrivavo a dei livelli mostruosi. Asteroid. Eh, no, è fantastico. Pingotronic, che poi è stata una delle prime console che potevano essere... E io l'ho avuta, e l'ho avuta. Erano gli anni in cui noi, di Elio Restorietese, andavamo in giro senza batterista e caricavamo su una batteria elettronica le parti di batteria con una cassetta. Cassetta suonata dal registratorino di che cosa? Del Commodore 64. Ma di chi soprattutto? Perché io l'ho ascoltata, la cassetta conteneva un pezzo bellissimo che faceva così... Che è stato un successo dell'epoca, tra l'altro. Beh, assomiglia tantissimo all'ultimo singolo di quello lì nuovo. Yang Signorino. Che fa così. Che fa più o meno. Ma il 6 giugno del 1960 è accaduta una cosa per noi molto bella. Ma per tutti, specialmente per te che sei... Per noi, per noi. Sì, sì, perché sei tu, sei un amante di Frank Zappa. Sì, sono abbastanza amante. Beh, nasce il 6 giugno del 1960 Steve Vai. Steve Vai. Steve Vai. Devo dire, la chitarrista, un chitarrista irraggiungibile. Irraggiungibile. Allora, c'è stata una... Hanno fatto uno studio, una classifica dei chitarristi con una specie di scouting report dei chitarristi ed è venuto fuori Steve Vai, due punti, molto bravi. Molto bravi. Molto bravi. Allora, gli esperti hanno detto... Abbiamo delle informazioni che non hanno tutti, perché tutti sanno che Steve Vai suona in tanti dischi di Frank Zappa, poi c'è una carriera sua con un sacco di gruppi, anche singolarmente. Non c'è come Steve Vai. Ma Steve Vai ha origine italiana. Esatto. E il suo nome nasce dal fatto che quando serve un assolo, gli dicono... Il capobano fa Steve Vai! E lui fa... In inglese Steve Go! E va di brutto. Tra l'altro, lui, quando è nato in Italia, diciamo come... alle origini, si chiamava Stefano Go. Sì. Trasferitosi negli Stati Uniti è diventato Steve Vai. Ma guarda che è pazzesco. Pensate quante informazioni incredibili vi diamo noi dei cittadini, ma ora bisogna ascoltare della musica. Ma sì, dai. Guarda. Suonata da Steve Vai. Vai! Siamo tornati. Siamo i cittadini su Rai Radio 2. Stiamo accompagnandovi nel vostro drive time. Potrebbe essere un momento nervoso. No, cari amici. No, ci siamo noi. Avete appena sentito della musica di altissimo livello, anche che fa molto ridere. Certo. You are what you is. You are what you is. You is what you am. You is what you am. Esatto. Degli errori continui. Ma... Perché ci siamo arrivati? Perché abbiamo parlato di Steve Vai, un chitarrista fantastico di origini italiane che è nato proprio il 6 giugno del 1960, quindi compie 58 anni. Tanti auguri a te, Steve. Tanti auguri. Steve Vai. Ed è originario di Dorno, in provincia di Pavia. Ma pazzesco. Chi avrebbe mai detto. Ed è entrato nella band di Zappa quando aveva circa 20 anni, 20, 21 anni. Pensate a un 21enne di oggi, concentratevi, in che band potrebbe entrare. Ma chissà che calze indossava, per esempio, in quel periodo. In quel periodo lì, beh, sai... A tu mi chiedi le calze di Steve Vai. Steve Vai indossava i tubolari. I tubolari sono quelle calze tipiche da sport. Perché dà, insomma, quelle bianche una volta, le basche insesate, i sanitari. Perché le calze, dobbiamo ricordare, che sono un argomento importantissimo. E non solo per gli amanti del piede. Perché dici, gli amanti del piede, no. Ad esempio, qualche anno fa, erano una specie di soldo. Allora, cos'è, anni 60, anni 70, andavi in Russia, tu ti portavi delle calze. Sì, ma perché faceva freddo. No, no, come moneta. Dici, hai dei rubli? No, ho delle calze. Ah, prego. Pagavi in calze e facevi all'amore. Ah, sì? Sì, sì, è incredibile. Una moneta potentissima. Nel che ci arrivai con i dollari non facevi all'amore. In Bulgaria, in Romania, in Romania, nell'est europeo, la calza... Però facevi l'amore, ma lei si teneva le calze sopra perché è come se si togliesse dei soldi. Certamente, no, no, si è sempre con le calze. Tra l'altro... Lei aveva in tasca le calze. Ma pensate all'importanza... Non le aveva i piedi, scusa, se erano soldi. Esatto, volevo dire, pensate all'importanza della calza, per esempio, nella festività della Befana. Fondamentale! Fondamentale. Ma lo sapete, per esempio, che non so, la Befana viene festeggiata anche da popoli insospettabili. I cannibali festeggiavano la Befana, solo che nella calza volevano trovare un piede. Allora, perché stiamo parlando di calze? Perché il 6 giugno del 1985 è morto Pio Chiaruttini. Ma chi era costui? Era un grandissimo inventore di calze e nel 1953 ha depositato all'ufficio brevetti di Brescia l'invenzione industriale, dispositivo per l'esecuzione di rigature o punteggiature in rilievo su calze in genere da montare su macchine circolari a doppia alimentazione di filato. Capite? Elio, scusami. Il rivoluzionario della calza! Vai con la musica! E siamo ancora noi, i cittadini. Quando siamo in dry time il tempo vola e ci è arrivata una mail. Arrivano poche mail ma molto interessanti. All'indirizzo icittadini.chiocciolarai.it. Ma pensa, allora, uno scrive Ciao a tutti, sono un ragazzo feticista mi piacerebbe trovare qualche ragazza che mi faccia annusare le proprie calze dopo una giornata di lavoro. Sì, ma dopo una giornata di lavoro sua o della ragazza? Forse di tutte e due. Facciamoci rimandare. In ogni caso non lo sapremo mai perché abbiamo finito. Ci potete riascoltare su Rai Play Radio. Ora noi, come sempre, diamo la linea a Caterpillar con Sara Zambotti e Massimo Cirri. Ci sentiamo domani a Sessori su Radio 2.